un'importantissima vittoria ma forse la più importante del nostro campionato siamo venuti qua un po' rimaneggiati infatti volevo salutare i nostri ragazzi che sono a casa Giacomo Catalano eh abbiamo avuto Gigi Aruta un brutto infortunio speriamo che recupera presto Sciolino che il papà ha avuto un problemino e speriamo anche lui che si ripiglie presto e anche per loro e anche per Leo il nostro leone le arcilesi oggi in pratica eravamo in contatto diretto con mister Bucchieri e con Leo minuto per minuto veramente forse eh abbiamo sofferto eh perché non abbiamo chiuso prima la partita Enzo ma è stata una partita veramente bella sono contento la squadra se ne va a quindici eh e diciamo ci passiamo un Natale molto più sereno un bellissimo morale ma anche un ottimo Leonforte che non ha mai mollato fino all'ultimo istante non ha ha dato da filo filo da torcere al morale ma non si sono arresi un minuto lo sapevamo però che sono dei ragazzi che in pratica in casa devono fare questo perché nei paesi trovi questo clima c'era tantissima gente Enzo ma i ragazzi sono stati bravi intelligenti eh e quindi abbiamo portato credo che sia un risultato meritatissimo meritatissimo veramente mister forse l'unica pecca del morale è stata quella di non chiudere la partita non l'abbiamo chiusa e quando non si chiudono le partite purtroppo si soffre dico questa partita è stata preparata alla grande da 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 me e Leo in settimana e finalmente si sono visti i risultati. Ora ci attendono due partite molto difficili contro l'Akeragas e Mabont due squadroni che stanno comandando il campionato con che spirito ci prepariamo a questa partita? Lo spirito è buono speriamo di fare due belle partite.